Sento abbastanza in ansia, però comunque devo dire che voglio affrontare subito la cosa, quindi sono abbastanza determinato. Ho programmato troppo in questi giorni, adesso vedo di prendere tutto così come viene. Com'è stato questo anno di maturità della pandemia? Tremendo, tremendo, tremendo. Un continuo avanti e indietro, dad, scuola, dad, scuola, facciamo questo, facciamo quello. E le interrogazioni in dad, stress. Che ce l'abbiamo fatta, dai! E adesso molto più sollevanti sicuramente rispetto a quello che abbiamo passato, non è stato un bell'anno, specialmente per loro, ovviamente, insomma, studiare in dad e perdere i contatti umani con tutti i loro coetanei non è stata sicuramente una bella cosa. Stanotte abbiamo dormito. Non poco. Dopo tanto tempo ha dormito con me, lo posso dire. Ha dormito con mamma in salotto. Un po' ansiosa, però, tutto sommato, sono cose che si devono superare, sono piccoli step, ecco, questi. Sono qui per dare forza ai miei compagni. Sicuramente l'estate ce la prenderemo per noi e poi a settembre si vendrà con i miei versi. Avete fatto il vaccino? Non ancora. Ancora no. Ho lavorato, avevo la diffrazione dei raggi X e poi da lì ho fatto tutto un discursus sulle donne. È stata particolare, strano. Però mi sono preoccupata forse troppo di una cosa che in realtà non era possibile. Spaventosa. Disse quella che aveva già fatto l'esame. Disse quella che è entrata l'esame balbettando. Ha iniziato a parlare balbettandosi.